Sarebbero due su tre gli abusivi nelle 28.000 case popolari di proprietà dal Comune di Milano. Si tratta di italiani considerati storici, ovvero che hanno occupato negli anni 2000 o ancora prima. Secondo i dati forniti da Metropolitana Milanese, l'azienda che dal 2014 gestisce il patrimonio pubblico di Palazzo Marino, si tratta per lo più di famiglie con bambini o nelle quali sono presenti persone invalide. Circa il 60% per prenderne possesso ha sfondato la porta o ha chiesto aiuto a dei professionisti del mestiere, se così si può dire. Il restante 40% ha ricevuto l'alloggio illegalmente da altri inquilini. Una sorta di mercato parallelo. Esistono dei veri e propri quartieri fortino degli abusivi. Si va da Niguarda, passando per Viacconi e Quartogiaro. Qui, nel terzo semestre del 2018, il Comune è riuscito a recuperare e riportare nella propria disponibilità 60 appartamenti. Da gennaio a ottobre invece sono stati riportati alla legalità 75 appartamenti attraverso sgomberi programmati e 90 con un lavoro di mediazione, senza l'intervento delle forze dell'ordine. Non si sono però fermati i tentativi di occupazione. Nel 2014 le case occupate erano 1.722 per arrivare alle 1.086 di oggi. Le case del Comune sfitte sono circa 5.000. L'obiettivo della Giunta Sala è quello di risistemare e assegnare 3.000 alloggi entro il 2021. Da aprile scorso MM ha completato circa un sesto del progetto con 506 case già pronte.